Praticamente al salone di Padova non poteva mancare il mito delle auto americane, qui siamo allo stand di Mito America, vedo che prestate molta cura ed attenzione alla brillantezza delle vostre vetture. Le macchine americane, le cromature e i scintilli devono essere in prima linea, Mito America in realtà è una manifestazione che verrà fatta in dicembre, noi siamo un club di auto americane che si chiama Route 66, un club federato ASI, il primo club oltretutto di macchine americane federato ASI in Italia. Vedo che state utilizzando per la lucidatura e per il lavaggio delle vostre auto dei prodotti di maffra, che vantaggi avete trovato in questi prodotti rispetto a quelli che precedentemente usavate? I vantaggi intanto sono che parlano da soli penso, perché come colori, lucentezza, penso non ci sia da aggiungere altro. E per quanto riguarda invece la durata della protezione? A quella sicuramente non ci sono dubbi, la durata è superiore, visto anche il maltempo nel portare le macchine in fiera che non ci ha certo aiutato, perché nei giorni successivi c'era brutto tempo. Ok, con questo io la ringrazio e auguro un buon proseguimento di salone, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi.